Is italia uvezzera I'm going to play ballets 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 Dribbley, dribley Bravo Who is that? I'm going to play drible This is good, Kermat, we are in the Krems We are in the Krems What is he doing? There There I'm going to play ballets We are in the Krems Let's start this We are in the Krems Can you play ballets? Can you play ballets? Cares I have a ballets Sunny E' un'esplice! E' un'esplice! E' un'esplice! non non e e e e oh 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 ah 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 Voi, vori, 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 vori. Vori, vori, vori. Vori, 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 vori. Vori, 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 vori. Vori, 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 vori. Oggi stai all'interno. Loro stai all'interno un po' di cuore. Rai da seduto. Rai da seduto. Oggi non è un po' di cuore. Aditi che svegli. Oggi andiamo. Zasci a vedere se vedi? Vedi che non sceglieva? Vedi che non si è andata? Vedi che non si è andata? Vedi che non si è andata? Vedi che è anche il lavoro. A questo che è stato famoso, io c'è qualcuno. Il 21 si sono stato contratato. C'è lui da fare? Dove qui? Veli sei falo! Che venga! Vediamo. Prima in me. non vieni aarti non vieni a fare non vieni a mastiglia offside offside chi è preparato? No, 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 no! 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 No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no!